Una perdita per la sinistra politica e sindacale? Sicuramente sì, Guglielmo è stato un sindacalista della CGL, un uomo della sinistra, molto importante che ha dato un contributo molto forte per estendere i diritti nel lavoro e sicuramente la sua capacità di analisi, la sua capacità di lettura e la sua attenzione ai processi sarà una cosa che ci manca. Credo che la sua vita, il suo modo di stare nella CGL, di stare nella politica sia in realtà un esempio che va assolutamente recuperato e quindi pensiamo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane stiamo pensando di organizzare in modo un po' più strutturato anche una serie di iniziative che a partire dal suo pensiero ci possono anche far riflettere sulle cose necessarie da fare oggi per affrontare i problemi, i cambiamenti che sono in corso.